Giovanni De Vivo, esponente del PD Quartesa, ancora una volta vuole porre l'attenzione su Via Casalanno che è diventata una strada che è quasi impercorribile. È vergognoso che quando vengono fatti dei lavori non ci sia un'amministrazione che controlla ciò che viene fatto. Dopo che si sono spesi centinaia e migliaia di euro ci presentano Via Casalanno in una situazione vergognosa dove è impossibile circolare in doppio senso. Mi sembra del tutto evidente che ci siano delle mancanze dalla parte dell'amministrazione, dell'assessore ai lavori pubblici. Cosa facevano quando sono stati effettuati i lavori, quando sono stati approvati i progetti? Adesso c'è una nuova amministrazione che dovrebbe provvedere a risolvere il problema. Diciamo che bisogna evidenziare che il popolo quartese è stato tradito. Chi ha votato Rosso Capuzzo ha votato per un cambiamento. Chi ha votato Gabriele Di Criscio non credeva in Rosso Capuzzo. Oggi li troviamo tutti insieme, insieme anche a Santoro, a fare una nuova amministrazione. L'inciuscio quartese è pronto. Io penso che non avrà vita lunga e soprattutto non porterà risultati positivi al popolo quartese, alla città e ai problemi.